Dopo la mobilitazione dei cittadini contro l'inquinamento della Valle del Sabato, nuovo summit in prefettura del tavolo creato ad hoc per affrontare l'emergenza. Presenti i primi cittadini della zona, Confindustria, Arpac, Asle e Associazioni Ambientaliste. Unico parlamentare al tavolo, il deputato 5 Stelle Carlo Sibilia. L'incontro è stata l'occasione per fare un primo bilancio sui monitoraggi dell'aria, della produzione alimentare e dell'acqua, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico i dati dell'Arpac raccolti dal 21 al 31 luglio non sono preoccupanti. Vanno però prorogati fino ad ottobre perché in questo periodo l'attività industriale torna a pieno regime. Valori nella norma anche per quanto riguarda i prodotti alimentari e l'acqua. Per l'Asle il problema potrebbe essere rappresentato dalla sommatoria delle attività industriali piuttosto che dal singolo stabilimento. Per avere dati definitivi e attendibili bisognerà aspettare ancora un paio di mesi. Intanto il sindaco di Atripalda replica l'assessore regionale all'ambiente romano il quale aveva escluso rischi ambientali derivanti dallo stirre e annunciato il graduale smaltimento delle ecoballe. Noi non sappiamo l'assessore romano dove abbia attinto questi dati. Noi sappiamo come sindaci che insieme ai cittadini da mesi stiamo ponendo una questione importante che è la tutela della salute dei cittadini nella Valle del Sabato. Minacciata non solo dallo stirre ma anche dal nuovo legno, minacciata dall'isochimica per cui purtroppo in un fazzoletto di territorio si trovano delle minacce per la salute pubblica troppo importanti. Noi ci basiamo sui dati dell'ARPAC per ritornare alla sua domanda e allo stirre. I dati dell'ARPAC mi pare che parlino chiaro. Stiamo parlando peraltro di una struttura pubblica quindi fino a prova contraria super partes e c'è un prefetto, sua eccellenza, con una grande sensibilità che alla luce di questi dati e può darsi anche di altri ha ritenuto opportuno convocarci perché evidentemente avverte la minaccia alla salute pubblica dei cittadini della Valle del Sabato. L'unico dato positivo del suo intervento è relativo allo smaltimento delle ecoballe e fa riferimento ad una gradualità. Noi su questo vorremmo che invece ci fosse un'accelerazione perché si tratta di ecoballe che non sono lì da qualche giorno o da qualche settimana ma da un bel po' di tempo e questo anche ci preoccupa.